Il camper McRant contiene vari attrezzi. Un kit riparazione gomme, due cune in plastica per livellamento, cavo elettrico, tubo per acqua. Alcuni hanno un tubo prolunga acqua per scarico. Forniamo anche scopino con raccoglitore, piedini di stazionamento su alcuni modelli e cric meccanico. Inoltre le dotazioni di sicurezza, quali giubbotto catarifrangente e triangolo di emergenza. Tutto normalmente posizionato dietro al sedile conducente.